Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Dicino, è sicuro signori di tiktok che non volevo, voglio vedere quanto ci fa infoniare Faffa FAN FAN! SAFRAAAAAAA! TUA MADRE QUELA GRANDE SUCCIATRICE! Ne voglio fare un'altra E poi vado su house Vai a cagare Flash Su che mi sto grande pompelmone Dio caro Dio è quella puttana di tua madre che ti ha messo al mondo Datemi un secondo Ne andiamo a togliere Tranquillamente a mano Sia nella parte destra Sia nella parte sinistra Una, due, tre E quattro Io vi consiglio sempre di essere in due Fatevi aiutare da un'altra persona Perché questo è l'unico passaggio Che potrebbe risultare un pochettino scomodo Io consiglio sempre ragazzi Aspettiamo infatti che arriva la Pami Io consiglio sempre ragazzi di essere in due A montare una serie da gaming Ci sta, ha senso Voglio vedere Perché non salgono queste cose Sono io che sicuramente Sbaglio qualcosa Ah oddio sono a inserimento Ma non ci credo Fatemi dare un'occhiattina Ma Cosa vuol dire non si legge molto? Ah ok devo modificare Calmi raga vi sistemo Mi metto l'overlay come quell'altro Tranquilli nel chill Allora desk Vi sistemo instant Facciamo così Allora Ok Penso che la camera in realtà Possiamo Domenico Andiamo Andiamo giù a condo Sì 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 Domenico grazie Buono altre bolle scude god Mi servono Un'altra raga Adesso te la nasce uno Tieni Ragazzi stai cazzo di balla Parca dia Eh cristo dio regà Non potevamo stare Così mano Stiamo curando Voi due dovete Tutte le bolle Eh io sto Prendo Eh per favore Parà il porco Per favore Dio caro Dai Farci prendere per il culo Così no Porco dia Andiamo Andiamo qua dentro Non ho cure Ragazzi ho 20 di vita Mi ha taggato ancora Vediamo se qualcuno mi dà una cura Oppure mi fate morire Venga qua Eh non ho cure Cosa le devo dare Non si gioca così No adesso chiudo tutto Me ne vado Grazie catta per la rosetta Grazie Arox Per le 23 rose Buongiorno Megarty Ioyoo Ioyoo Megarty No lo dica Grazie Megarty Grazie Buongiorno E' bella zio Ma che minchia di fine hai fatto Bisogna salire raga Non c'è un'idea Vai 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 Ti ho povero Merda Mi ha fatto una No raga così non si può fare Ma che cazzo è successo Siamo entrati uno per un'altra Abbiamo fatto La mamma del manu Va in minigonna a fare la spesa passa al reparto ortofrutta compra 5 zucchine e 4 carote le telecamere la guardano passa alla cassa e paga solo 5 zucchine la commessa gli dice sì signora però le carote le deve pagare non sappiamo dove erano no non si guadagna bene da tic che ne so io mica lo faccio per i soldi io lo faccio per espandere la mia community non ho mai guardato andiamo il labiale si sia capito non è colpa mia se si capisce il labiale non è che posso fare potrebbe stemmiare sul serio sai che contano siamo dati tutte e tre no ragazzi qui partiva è pesante dobbiamo farci quei barili sono i flappari se non succede quando sbagliate a cliccare se sbagliate a cliccare e cliccare due volte ma il fatto è che io ho cliccato no no stamattina anche con la sveglia niente da fare però alle 8 e 50 mi sono svegliato quindi ho detto ciao facciamo la colazione e poi andiamo e poi andiamo buongiorno ragazzi buongiorno cipitella buongiorno buongiorno a tutti ciao come state grazie mille Ale per le bottiglie grazie di cuore sarebbe dopo gli scrivo verso mezzogiorno per confermarlo se mi dà la conferma che oggi posso andar giù allora lo vado a vedere no ci ha messo un bot allora un momento torniamo alle porte dai allora era la porta bagno stretta dai era bellissima e mamma mia chi se la ricorda lo so io no tutti italiani e prendono tutto il cazzo parentesi minchia merda c'è altra gente sicuramente c'è il ma c'è dentro il codice di una copertura di fortnite veramente se farlo vedere in live eh ah io così non ho perdi allora ci sono tutte le spiegazioni no Riccardo io non uso nessuna sua segna questo qui è è hai altri barili si perfetto questi vengono sopra di noi è probabile è probabile che dato sono già abbiamo dell'impulso per scappare raga tutti avete impulso io tutti avete impulso perfetto allora dopo ci spostiamo fino alla casa con impulso spacca il baril appena abbiamo finito aspetta scusami passato da questo corridoio non è troppo pericoloso ti spacca la faccia ok sono d'accordo ah non c'è forse si possiamo farlo ma raga quel team secondo me invece è salito è andato su dove c'è star wars se sta là sarà dentro la casetta ma che cazzo facciamo un controllo per favore dai tagliamo la testa ok no sono andati da star wars ha ragione sì ok abbiamo la zona veloce andiamo là si sparano ragazzi shock eh mi hanno fatto prendi lo prendi lo prendi dal portatile raga effe aspetta un attimo dobbiamo impulsare in zona grazie zordono ciao bello grazie porca madosca puttana bastarda sono chill vieni con me effe io no tra l'altro ti spiegano anche se è facile o è difficile da fare ti spiega quanto tempo ci vuole e loro selezionano no non c'è il procedimento di come si fa il piatto guarda la ricetta completa ah c'è certo che c'è ragazzi qui c'è spiegato passo per passo come si cucina quindi loro vi seguono proprio e vi fanno cucinare con i prodotti già giusti in questo caso sbucciate affettate le cipolle grattugiate le zucchine potete andare avanti mescolate in una ciotolina lo yogurt pulite la padella è una cosa molto bella perché tu la piadina te la danno già pronta certo certo tostate le tortille certo c'è già il preparato c'è scritto qua mini tortiglia di farina bianca tra l'altro ovviamente in base a quello che scegliete arrivano prodotti il più a chilometro zero possibile voi potete anche guardare quali sono i menu perché come vedi porca vacca no raga quanto gli ha fatto grazie immenso per il fulmine come bolle ragazzi usiamo le cazzo faccio sull'albero porco di acceda quest'albero per l'amor di dio e butti venga qua con la bolla arrivo di qui 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 non ci vedo non sto per morire avete lo shield ma perché io non vi vedo raga raga perché non vi vedo parco di quel parco io ho ancora una bolla ragazzi non ce l'ho la tiro io questo io